ben trovati nuova settimana che comincia nuova settimana che comincia in compagnia di legal community il video editoriale di oggi lo dedichiamo all'avvocato in costituzione ancora lui sì ancora lui perché se ne torna a parlare se ne è tornato a parlare con una certa insistenza durante il 35esimo congresso nazionale forense se ne torna a parlare perché in costanza diciamo così con le riforme processuali che sono state introdotte quella del processo civile del processo penale così via si è cominciato a ragionare del ruolo e della funzione dell'avvocato nel processo e in particolar modo per quello che riguarda la riforma del processo civile con l'importanza con come dire l'attenzione che il legislatore ha dedicato all'attività di mediazione si è tornato come dire a mettere in discussione in qualche modo la necessità del ruolo della funzione dell'avvocato nella risoluzione delle controversie tra le parti allora che cosa vuol dire mettere l'avvocato in costituzione vuol dire ribadire una cosa che la costituzione c'è già e cioè che i cittadini hanno diritto ad essere difesi nel processo che questo diritto alla difesa non lo possono esercitare direttamente autonomamente ma hanno ovviamente bisogno di essere affiancati da un avvocato il dibattito sulla questione è lungo il dibattito sulla questione è risalente ne parlo persino in quali avvocati dicendo sostanzialmente una cosa però dicendo che questa battaglia per l'avvocato in costituzione può una battaglia inutile non dannosa ma quanto meno inutile per le ragioni che ho detto prima cioè che sia l'avvocato a dover rappresentare il cittadino nel processo questo è scontato ditemi voi quando capita che un cittadino o un'impresa si presenti no in una causa senza il proprio avvocato non accade mai quindi dire che l'avvocato va la figura dell'avvocato vada costituzionalizzata invece ha come obiettivo quello di come dire costituire una tutela ulteriore per la sua come dire sostenibilità reddituale per e quindi andrebbe a fare il paio no con tutta la battaglia per l'equo compenso e così via viene utilizzata per ribadire la fondamentale rilevanza di questa funzione nella giurisdizione ma ripeto dicendo qualcosa che già c'è mentre se diciamo non ci sono effetti e controindicazioni dirette di questo tipo di riconoscimento ce ne sono di indirette e questo credo che sia meritevole di una riflessione perché parlare dell'avvocato in costituzione significa comunque pensare alla figura dell'avvocato esclusivamente collocata nel processo mentre questo non può essere perché come sappiamo gli avvocati oggi sono tanti sono diversi sono diversificati nelle funzioni che essi svolgono all'interno del nostro sistema economico e sociale tornare a insistere sulla figura dell'avvocato in costituzione significa sostanzialmente tornare a insistere a ribadire una come dire una collocazione a un'immagine dell'avvocato esclusivamente legata all'attività giurisdizionale e questo non è perché l'attività stragiudiziale sta diventando sempre più importante per la classe forense gli avvocati impegnati in attività stragiudiziale consulenza diciamo nel senso più ampio possibile in cui si possa considerare questo concetto sono sempre di più e allora spiegare e far capire far passare il messaggio che l'avvocato è avvocato solo se va in tribunale secondo me rischia di essere un po un autocollo non lo so pensateci magari fatemi sapere anche qual è la vostra idea in proposito noi ci vediamo lunedì prossimo ciao